E ciao a tutti ragazzi sono Falcos Game Over e ben tornati con un nuovo video di Dragobox Xeno S2 Oggi ragazzi sono tornato in compagnia del mio grandissimo amico Simo Ben tornato bro Ciao a tutti ragazzuoli Sono d'accordo bro Oggi ragazzi la nuova missione del boss raid esitata a cuore nero Che si tratta ragazzi di Vegeta Magine La nuova boss da Faliu con la strisce Ma mi raccomando ragazzi se vogliamo che procediamo con la missione dovete lasciare dei fututissimi like se volete dei prossimi video E mi raccomando ragazzi adate iscrivervi al mio canale per mettere anche la campanella di notifiche Ma non perdervi dei prossimi video Simo sei pronto ad affrontare il principe dei Saiyan? Cocodo E intanto prima che partiamo vi mostro un attimo il fessore GKO Appunto Dai partiamo i nostri patroli Io vado con Falcos E comunque ragazzi Lo scorso video l'avevo fatto con il mio amico Matisse Lo saluto e vi lascerò i link e descrizione del suo canale Se lo siete persi del video precedente adattevelo a recuperare ragazzi Che sto video è venuto a top Eccoci qua Cuore nero Scorfici principe della distruzione Vegeta Deppo Scaduto Allora bro Dovemmo fare attenzione Sicuro Vegeta ci farà Oculla strisce Io vado con la carica massima A trasformarmi E no Arriva subito Vegeta Vado con il super saiyah di Tetsu Velo Mi sconfiggerò La super anima di Marduk Vado Bombardiere tra le SS Boom Subito coi danni Ragazzi ho sostituito il camionato e trasporto E ho portato questo Vai Lapo Sponcolate E Simone va fuori con il raggio etario dell'imperatore Come potete poi vedere ragazzi Io e Simone siamo i tabi di super saiyah di Tetsu Tetsu livello Oh oh Via Simo scappiamo E so che da qui lo perdevo No ma separato Vabbè 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 Le tenele SS Olè Vabbè 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 Ti do pure una mano Vai Cama mia Di Rompete Mamma mia Quell'appo sponcato E faccio dei danni Oh Ma questi maledetti Me l'hanno spostato M'attacca ma mia Di Rompete E niente E fa l'abilità Di schivata Aspettate Mi cae Questo Simone Va a carico A massimo Comunque ragazzi Vi annuncio anche Che pure uscito Ragazzi Le nuove Mascotte Il cc Da 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 Vottare Pedi Sì Tredici Poi ragazzi A fine video Ve li farò Vedere Oh Chi l'ha Velenato Bravo Simone No E' Gua Guarda La Fosforgate No Che cosa Cavo Fa Ci dispi No Raga Scusate Che ogni Tanto Il mio Joystick I pazzisce Non so Perché Ma Non vi Preoccupate Raga Questo Può Succedere Non mi Pato Sono Madoka Yushiki C'è Kid Bu Perfetto Non poteva Capitermi Di meglio No Raga Come Ho detto Il Joystick Vi fa Pazzo Ma Chi sono Con L'alleato Oh Chiara Madòi No Guarda Quanta Vita Che c'ha Ma Come Sei già Morto Però Meno Mare Che Hai usato A Cazzo Guarda Questo Tizio Qua Che Me Lo Sposto Quattimete Grazie Raga Per Cazzo Cosa Non è possibile T'ha sciocato Aspetta Prova ad arrivarti un attimo La pospogate E niente Guarda Se sto Chibro Aspetta Se Di passi Continua Metta Andiamo So Beco Oh Beffet Forza Vai Questa Ragazzi È la Mossa Del Caro C13 Che L'ho Sbocata Grazie A Simone Aspetta Resisti L'ho Quasi Scoffito Mamma mia Questi Faccio Dei Dani Oh Cacchio Ok Sono Riuscito A Scofficio Mi raggiungo Subito Aspetta Portale Dove Cacchio Sta Oh Oh Ecco Simo Resisti Un attimo Bro Che sto Arrivando Vediamo Le 6 No Fammi Guardare Simone Oh L'uno è quadrato Tieni Tieni Ti do anche una capsula Ti culo io Bro Resisti Dai Forza Pazza Vabbè Faccio Cura Provo il tratto Distruggere Questi altri Qui Resisti Un attimo Simo E no Cic Vabbè Bro Ti devo Dare un attimo Bobbadile Tra le sese Vai Meno Mai Che sta Mossa I segue Che però Me l'hanno Spossato I motacci Dei Cagnacci Oh Bravo Zio Vediamo se lo becco Perfetto La pospogorate Mamma mia Quatti Dani No Se puoi parlare Parato Mannaggia Mi carico Vediamo se lo becco Vabbè Tanta missione Beh Finita Vabbè Leggetta Magina Se ne scappa Come al solito Mamma mia Simo Che missione Vediamo Vediamo un po' Oh io sono il secondo Terzo Non ci credo Che gatto hai preso Io a Non mi ha dato niente Te Che culo Ragazzi A me Non mi ha dato niente Aspetta che illustrazione Hai ricevuto Certo etica Guardate raga Ho Sbloccato L'illustrazione Paikwan Raga Perché raga Ho acquistato I DSI Fiamette Vabbè Ragazzi Chiudiamo qui I video E' stata Una Partita Devastate E tak se Leverò Per i maroni Oh Prima che chiudo Ragazzi Vi faccio Vedere Quelle mascotte Sono usciti Non ando a votare Ma ve lo farò vedere Nel prossimo video Aspettate un attimo Ragazzi Che si carica Aspettate un attimo E va a quel paese Vabbè ragazzi Asciamo a perdere Tanto l'avranno già visto Dagli altri video Vabbè ragazzi Io saluto qui Ringrazio a Simone Per aver partecipato Con me A questo video Mi dispiace Che il prossimo Sei caduto Più e volte Bro E quindi ragazzi E' stata Una bella partita Ringrazio ancora Simone Guarda Sta zocca Che mi spinge Vabbè ragazzi E guarda Sei joystick Fa Allora Vi dicevo Ragazzi Nel prossimo video Ragazzi Vedremo ragazzi Se uscirà Un altro nuovo boss Raidaga Chi può dirlo Vabbè ragazzi Io e Simone Vi salutiamo qui Vi ringraziamo Con cuore Mi raccomando ragazzi Commettateci Per fateci Scusate Commettate sotto Per farci sapere Se questo video Vi è piaciuto E fateci sapere Che illustrazioni Mascotte Avete preso tutto Quindi ragazzi Vi salutiamo Ancora Uffa Ciao ragazzi E' qua Ciao raga